Ci sono anche il neomelodico palermitano Toni Colombo e la moglie Tina Rispoli tra gli arrestati dell'operazione antica morra effettuata all'alba dai carabinieri di Napoli nell'ambito di un'indagine della Didia sulle attività imprenditoriali e finanziarie del clan di Lauro di Secondigliano. Tra i reati contestati il concorso esterno in associazione mafiosa, la turbativa tasta e l'aggramante della transnazionalità legata al contrabbando di sigarette. Il clan di Lauro investiva in società di abbigliamento e creava brand insieme con Toni Colombo come quello denominato Corleone. Anche la bevanda energetica 9 mm, il cui nome richiama al calibro delle pistole come il marchio di abbigliamento ammiccante al mondo della criminalità organizzata, sarebbe riconducibile al clan fondato da Paolo Di Lauro, detto Ciruzzo Milionario. Fiorente è il business del contrabbando di sigarette, in particolare con l'est Europa, con un investimento di mezzo milione di euro secondo gli investigatori, reso possibile dai vertici del clan di Lauro, dal cantante neomelodico Toni Colombo e dalla moglie, sarebbe stata messa in piedi una fabbrica di sigarette già sequestrata per confezionare pacchetti con tabacco estero da vendere in Italia e all'estero. Le indagini dei carabinieri del ROS concentrate tra il 2017 e il 2021 hanno fatto emergere attività illecite come lo spaccio di droga, estorsioni, minacce ai familiari di un pentito e anche agli imprenditori che partecipavano alle aste giudiziarie per costringerli a desistere. L'indagine ha portato anche al sequestro di beni per 8 milioni di euro. Chiunque siano le vittime non è una cosa che si fa, a prescindere non è giusto. Poi anche sentissero dire da una persona che comunque è sagra a Michele, non è piacevole. Il paese è ancora incredulo dopo l'arresto del preside del liceo artistico Libertini, accusato di violenza e tentata violenza sessuale nei confronti di alcune studentesse minorenni. Ci sono state le mie figlie alla scuola, mi sta sembrando una cosa strana. Le mie figlie hanno fatto, però mai le mie figlie hanno detto una cosa di questa. Ci sta lasciando di stucco. Sette le ragazze coinvolte in questa drammatica vicenda che parte dalla denuncia di una quindicenne sui presunti atti sessuali subiti, tra i quali un bacio sul collo nell'ufficio di presidenza dove l'uomo di 61 anni non sarebbe riuscito ad andare oltre solo per le resistenze opposte della ragazzina. Chi lo conosce si mostra sorpreso, ma condanna fermamente questa condotta. Sono cose gravi che non vanno... è assurdo comunque, sembra una cosa fuori dal... poi nessuno sa quale al momento sia la verità, siamo tutti un po' sbalorditi. Il preside, ora agli arresti domiciliari, è conosciuto da molti abitanti di Gran Michele non solo per il ruolo in ambito scolastico, ma anche per un'altra attività svolta in paese. Ma lei lo conosce? No, no, lo conosciamo per sentito dire, perché è anche il padrone di una palestra, ma non lo conosco. Ma se l'aspettava una cosa del genere? Guardi, non mi interessa questa discussione, va. Ora gli abitanti chiedono che si faccia chiarezza e che la verità venga a galla. Sono 16 anni che attendo giustizia. Con l'aggravio, che è la situazione mia, si sta rendendo insostenibile sotto qualsiasi punto di vista. Sto sperperando denaro in una maniera sproporzionata e vengo attaccati da tutti. Lui è Emilio Missuto, un imprenditore che lavora nel campo dell'edilizia nel 2007. La sua ditta fallisce a causa di un mancato pagamento di 37 mila euro di tasse e contributi. Soldi che Emilio non aveva, pur vantando un credito di circa un milione di euro dallo Stato per lavori effettuati in alcuni comuni della Sardegna, realizzati, fatturati e mai pagati. Per questo motivo nel 2013 inizia tre mesi di sciopero della fame davanti al Tribunale di Gela per chiedere giustizia. Giustizia che oggi, a distanza di 16 anni da quel fallimento che lo ha portato sull'Astrico, non è ancora arrivata. E così Emilio ha preso il suo vecchio camper ed è ritornato a fare lo sciopero della fame, ancora una volta, davanti al Palazzo di Giustizia. Nulla è cambiato, anzi mi trovo in una situazione drammatica perché mi attaccano da qualsiasi punto di vista. Sono stato attaccato dalla microcriminalità che mi ha derubato. Sono stato attaccato dalla mafia. Chiedo giustizia da 16 anni. Scusate. Ad oggi il contenzioso giudiziario è ancora in corso. Il suo credito è stato parzialmente riconosciuto, ma al momento l'imprenditore non ha ricevuto un solo euro. Ancora siamo in fase giudiziale. Aspetto gli esiti delle cause. Aspetto un atto di consistenza da 16 anni. L'atto di consistenza è la fotografia dei lavori che avevo eseguito all'epoca e che non mi sono stati pagati. Adesso Emilio chiede un incontro al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Chiedo un incontro con il Presidente Sergio Mattarella solo e esclusivamente per spiegare la mia situazione e in qualità di Capo Supremo della Magistratura vedere quali sono le cose da fare per poter sistemare la sua faccenda. Una lettera firmata dai sindaci di tutte le isole minori della Sicilia inviata ai governi nazionali e regionali, oltre che al Presidente della Repubblica, alle prefetture siciliane, dalle Oli alle Egadi, da Ustica a Pantelleria. La richiesta è una, la dichiarazione dello stato di emergenza. Una richiesta che arriva dopo l'ultimo incontro avvenuto nel poveriggio di ieri tra l'assessore regionale a Ricò, i vertici di Caronte Turist ed i sindaci sulla gestione dei collegamenti marittimi integrativi gestiti dalla Compagnia di Navigazione Messinese. I sindaci nella lettera sottolineano i notevoli danni all'economia delle isole minori a causa dell'aumento vertiginoso delle tariffe, in alcuni casi fino al 500%, e dopo l'interruzione degli stessi collegamenti da parte della Caronte Turist a causa delle vicende giudiziarie col sequestro di tre navi. Le istorie dei siciliane, scrivono, sembrano essere ostaggio di una vicenda giudiziaria che interessa la Caronte Turist, una vicenda che ha causato ben cinque mesi di gravissimi disagi rendendo inutili tutte le azioni a tutela delle rispettive comunità locali, le cui condizioni di vita sono state pesantemente condizionate dall'aumento esponenziale dei prezzi ed in particolare dei carburanti. Evidenziali situazioni di allarme che si sono già verificate, come la mancanza di ossigeno per anziani a Favignana, l'interruzione dell'erogazione della benzina a Lipari, il blocco del trasporto dei rifiuti nell'isola Isalina, il blocco del trasporto di materiale edili per opere pubbliche in scadenza il 31 dicembre a Malfa, il ritardo nei rifornimenti di ogni genere di merci in ogni isola e continue proteste dei trasportatori, vittime della grave situazione che si è venuta a determinare. Sottolineato anche come l'emergenza è scattata proprio nel pieno della stagione turistica e sia ancora in corso nel momento in cui avrebbero dovuto riprendere le attività edilizie, i lavori pubblici e a breve anche l'inizio degli interventi previsti dal PNRR e i sole verdi col rischio di una paralisi e ulteriori danni all'economia, peggiorando il fenomeno dello spopolamento invernale. Da questo nasce la richiesta al Presidente della Regione di attivare le procedure per lo stato di emergenza così da gestire una crisi che può solo peggiorare, visto che a breve le frequenti condizioni meteomarine avverse potranno solo aggravare una situazione già critica. Sono 92 gli istituti scolastici siciliani che rischiano di perdere l'autonomia alla fine dell'anno 2023-2024. Il piano di manzionamento 24-25 potrebbe portare a tagli consistenti non solo delle cattedre ma proprio degli istituti. 19 di questi 92 sarebbero solo a Palermo e provincia. Il conto lo ha fatto lo AFLCCGL ma si tratta dell'ipotesi peggiore. Il piano di tagli infatti dovrà essere confermato dai dati demografici e da quelli territoriali. 698 gli istituti che andrebbero chiusi su tutto il territorio nazionale. È soltanto l'ultimo allarme che viene dalle decisioni prese dalla politica. Il piano scolastico è nazionale ma se Roma decide tagli Palermo non interviene, almeno non per il momento. E la Regione sceglie invece di non decidere anche per quel che riguarda la sanità. Non ha retto neanche il breve volgere di mezza giornata l'accordo che sembra esserci sulla nomia dei 18 manager della sanità. Il vertice è saltato subito dopo per quello che viene considerato un disguido tecnico ma in realtà c'è tensione fra Forza Italia e gli alleati. Unica buona notizia delle ultime ore è la ratifica dell'accordo stato-regione sul piano dei conti della Sicilia. Una revisione che libera la possibilità per la Sicilia di fare assunzioni fino a 750 i nuovi ingressi in amministrazione regionale per sostituire parzialmente i pensionati. L'Isola aveva chiesto almeno 1.500 figure nuove. Si comincerà con la metà. Sul tavolo ci sono 12 miliardi di euro, anzi ci dovranno essere. Il Governo nazionale ha inserito nella legge di bilancio il finanziamento per l'intero ammontare per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina ma con una proiezione pluriennale dei tempi necessari, ha spiegato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Una mossa per accontentare il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che nelle ultime settimane aveva pressato l'esecutivo sulla megaopera ma nell'orizzonte temporale dei primi tre anni sono finanziate le prime tre quote a salire in base ai tempi necessari alla realizzazione e la precisazione del Governo. Insomma ci sono i primi stanziamenti per l'opera con una collocazione delle risorse legata alla dinamica dei lavori e le risorse sono prevalentemente concentrate nel 2025-2026 ha fatto sapere sempre il Ministro Giorgetti. Tutto questo contemporaneamente alla disponibilità della Regione Sicilia ad investire oltre un miliardo di euro per cofinanziare l'infrastruttura ottenendo una quota del 10% sulla partecipazione. I fondi proveranno da risorse della nuova programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 e con altri 200 milioni frutto di economie relative a risorse nazionali per il ciclo 2014-2020 non ancora spese. Abbiamo posto le basi per imprimere un'accelerazione determinante alla costruzione di quella che sarà un'infrastruttura strategica per il futuro della Sicilia, ha detto il Governatore Renato Schifani. Non sono mancate le polemiche, i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno definito lo stanziamento una burla, mentre il coportavoce nazionale di Europa Verde, deputato di Alleanza Verdi, Angelo Bonelli, ha chiesto come si possa pensare di utilizzare 12 miliardi di euro per un progetto del genere di fronte ad un paese in ginocchio dal punto di vista del trasporto pubblico locale e dei servizi pubblici essenziali. Un punto in tre partite, una posizione di classifica scomoda, un gioco che stenta a decollare e tante assenze. Il processo al Catania è iniziato e il primo a rischiare è Mister Tabbiani. Traballa la panchina dell'ex tecnico del Fiorenzuola che al massimino contro il Taranto si gioca parte del suo futuro. Inutile fare giri di parole, un'altra sconfitta sarebbe la quarta su otto gare disputate. Non lascerebbe margini per ricomporre una frattura, a quel punto è insanabile. Nel calcio si sapaga sempre l'allenatore, indipendentemente dai problemi che attanagliano la squadra, alle prese con infortuni di elementi cardine come Rapisarda, Livieri, Chiarella, Dubiscas e Rizzo, quest'ultimo rientrato a Castellammare di Stabbia. I risultati negativi non aiutano, come conferma Alessio Castellini, intervenuto a corner. Noi siamo uniti, dobbiamo stare uniti e dobbiamo reagire e uscire da questo momento. Catania ha grappato alle protezze dei singoli, si pensi a Chirico e Di Carmine, ma l'attacco non sembra garantire i gol che in estate si aspettavano. Sette le reti all'attivo, di cui quattro messe a segno contro la Casertana, sono davvero poche ed in questo senso bisogna lavorare per trovare nuove soluzioni. Dobbiamo trovare delle nuove soluzioni sicuramente, perché è vero, comunque non riusciamo sempre a concludere l'azione, cerchiamo comunque di trovare lo spazio giusto muovendo palà a destra e a sinistra, forse, anzi senza il forse, dovremmo farlo un po' più velocemente. Castellini sgombra, il campo dà possibili frizioni nello spogliatoio. Il gruppo è forte, il gruppo è unito, giustamente magari in campo può sembrare diverso. Le prossime tre partite saranno fondamentali, solo a quel punto si potrà guardare la classifica. Taranto, Monterosi, Avellino, in sette giorni la stagione del Catania sarà più definita in un modo o nell'altro.